Esistono delle regole base per prendersi cura della nostra strumentazione fotografica? Nel video di oggi andiamo a vedere quali sono le raccomandazioni di un noto brand produttore di fotocamere per la cura e il mantenimento del nostro equipaggiamento. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per aziende e ogni tanto per progetti musicali. Oggi andiamo a vedere una cosa che secondo me ai più sfugge. E sfugge per un motivo ben preciso. Sono andato a vedere i libretti di istruzioni delle ultime fotocamere che ho acquistato perché volevo reperire un paio di informazioni e mi sono reso conto con sgomento, lo devo confessare, che nei libretti di istruzioni che noi troviamo quando acquistiamo una macchina fotografica c'è soltanto il quick setup. Cioè i libretti di istruzioni ci dicono solamente come inserire la batteria, accendere la macchina e impostare le modalità automatiche. Avete capito bene, nell'ultimo libretto di una fotocamera, in particolare una fotocamera Canon che ho acquistato, il libretto di istruzioni contenuto all'interno non mi dice assolutamente nulla sulla fotocamera se non come accenderla e impostarla in automatico. Per tutto il resto dobbiamo arrangiarci da soli. E quello che ho fatto è che sono andato sul sito del produttore, in questo caso sul sito di Canon, e mi sono scaricato il manuale, quello vero diciamo, il manuale grosso in pdf con le istruzioni per la mia fotocamera. In particolare però oggi ci soffermeremo sulla prima parte di questo manuale. È un vero peccato che questo manuale non venga più distribuito, anche se mi rendo conto che per le dimensioni sarebbe proibitiva la stampa e dovrebbero stamparlo solo in inglese. Infatti anche online io l'ho trovato solo in inglese. Non so poi se c'è una gabola per andarlo a beccare in italiano, però l'italiano a me non caricava, per cui l'ho messo in inglese e l'inglese invece me l'ha scaricato subito. Andiamo quindi a vedere quali sono le precauzioni dichiarate dal colosso giapponese per la corretta manutenzione, per il corretto utilizzo e la conservazione della strumentazione che andiamo ad acquistare. Prima di cominciare però io vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, se lo fate subito poi non ve lo dimenticate e se lo fate adesso probabilmente non ve ne pentirete. Speriamo. Dunque andiamo a fare un po' di traduzione simultanea perché io ho qui il pdf, non vado a leggerlo contestualmente ma vado a fare la traduzione perché appunto è in inglese. La fotocamera è uno strumento di precisione, quindi non fatelo cadere, non sottoponetelo a degli urti. Vabbè questo è ovvio, ci potevamo arrivare anche da soli. La camera non è a prova d'acqua, quindi non può essere utilizzata sott'acqua. Questo ragazzi è importante. È importante mantenere la fotocamera sigillata in maniera da prevenire l'entrata di polvere o altre particelle indesiderate in comparti come la camera di scatto oppure lo slot delle memory card oppure lo slot delle batterie. Insomma, non lasciamo le fotocamere aperte in modo che possa entrarci roba. Veniamo alle raccomandazioni di pulizia. Qui cominciano le cose interessanti che magari non tutti sanno o che magari qualcuno non si aspetta. Se la fotocamera si bagna, asciughiamola con un panno asciutto e pulito. Quindi questo è importante, perché questa già è una cosa che non tutti sanno e credetemi, è una cosa che non tutti fanno. Ho visto persone disinteressarsi di questo aspetto. Quindi se cade dell'acqua sulla nostra fotocamera, a me è successo un po' di giorni fa, andiamo ad asciugarla con un panno pulito. Non abbiamo un panno pulito, va benissimo la maglietta ragazzi, è meglio di niente. Perché nel momento in cui noi la asciughiamo, impediamo magari che l'acqua vada dove non dovrebbe andare. Se la macchina invece si sporca, quindi se ci cade sopra qualcosa di peggio dell'acqua, andiamo a pulirla con un panno inumidito e strizzato. Questo è ancora più importante, perché se la camera è sporca, vi è caduto il gelato sulla fotocamera, non la lasciamo così. Dobbiamo andare a pulirla. Un panno da solo non basta, perché si appiccica tutto, stendiamo lo zucchero del gelato su tutti i meccanismi e non va bene. Invece inumidiamo un panno e andiamo a passare quello, e poi asciughiamo con un pezzo pulito dello stesso panno. Un'altra cosa importante che secondo me molti sottovalutano, la pulizia della camera dopo l'utilizzo è raccomandata. Lasciare che si depositino polvere, sale, umidità, qualsiasi altra cosa sulla fotocamera può provocare un malfunzionamento. Ora, il produttore se la sta prendendo larga, perché io vi assicuro che non è che se non pulite la vostra macchina smette di funzionare. La macchina funziona ancora benissimo per anni. Certo che se non la puliamo mai, alla lunga possono insorgere dei problemi. Quindi una passatina ogni tanto, specie se siamo stati a scattare in un ambiente poco pulito, è meglio dargliela. Qui, vi ripeto, qui siamo già nel territorio di cose che non tutti sanno, per cui queste sono interessanti. Se fate cadere la fotocamera in acqua, oppure se avete il sospetto che umidità o altre cose indesiderate siano penetrate all'interno della macchina, portatela in assistenza. Perché questa è la tipica cosa che l'assistenza può risolvere, noi probabilmente no. E comprare una tonnellata di riso basmati e infilare il riso basmati dentro nella fotocamera potrebbe non essere una cosa furba da fare. Perché il riso, non so se l'avete mai preso in mano, il riso è pieno di polvere, di particelle che si staccano e che vanno dappertutto. Quindi mettere il riso nella fotocamera, io non lo farei. Ok, una cosa che scopro anch'io perché io non è che so tutto, è meglio non lasciare la macchina in presenza di forti campi magnetici. Quindi per esempio, e leggo direttamente dal manuale, è meglio non lasciare la nostra fotocamera vicino a dei monitor o a degli speaker. Sapete che gli speaker, un qualunque speaker, un altoparlante, un riproduttore, ha dei coni che sono dei potenti magneti. Quindi lasciare la fotocamera costantemente in presenza di campi magnetici non è una buona cosa. E come trovo riportato, non è una buona cosa né per la macchina né per le schede di memoria. Quindi la stessa cosa vale per le schede di memoria. Se abbiamo lì le nostre memory card, non le conserviamo in presenza di forti campi magnetici. Non le mettiamo né vicino a un microonde né sopra gli speaker del nostro amplificatore di chitarra. Potrebbe non essere una buona scelta. Un'altra cosa che vedo tantissimi invece fanno, non esporre la strumentazione a calore intenso. Quindi per esempio, io questo non lo faccio mai, in questo sono bravissimo, se andiamo a fare un lavoro, un'uscita, qualsiasi cosa, non lasciamo la strumentazione in macchina sotto il sole. Anche se siamo in autogrill e stiamo entrando all'autogrill, non lasciamo la fotocamera in macchina sotto il sole perché quel calore di certo bene non le fa. Quindi è meglio se la portiamo con noi. Inoltre, è molto meglio se la portiamo con noi anche per un altro motivo. Mi hanno raccontato degli amici smanettoni, esperti di tech, che ormai i ladri sono diventati così bravi, hanno uno scanner che gli segnala se dentro in una macchina c'è una batteria. Quindi loro sanno se hai lasciato un dispositivo con una batteria dentro nella macchina. Quindi che sia un laptop, un iPhone, una fotocamera, loro non lo sanno, però rilevano che c'è una batteria. Rileveranno il litio probabilmente, non lo so. Comunque, se sanno che c'è un dispositivo altamente tecnologico in macchina, ti spaccano il finestrino e te lo rubano. Poi dopo scoprono con rammarico che non è un iPad o un iMac ma è solo una fotocamera e magari la buttano anche via perché non sanno che farsene, però intanto ti hanno rotto il finestrino. Quindi comunque non lasciamo la strumentazione in macchina in autogrill. Un'altra cosa che so che molti di voi non faranno, qui riporta testualmente, la fotocamera è uno strumento di precisione che contiene dei meccanismi elettronici. Non provare a disassemblare la macchina, non provare ad aprire la macchina a casa. Io so che molti lo fanno, molti di voi mi hanno detto no io la riparo da solo, ecco c'è scritto di non farlo, se siete capaci e ha sempre funzionato potete continuare a farlo, se è la prima volta io forse aspetterei. Questo è interessante, vado a leggerlo perché devo tradurre simultaneamente. Usate solamente i soffiatori disponibili sul mercato per rimuovere la polvere dalle vostre lenti, dal viewfinder o da altre parti. Non usate soluzioni che contengono solventi in atto naturali per pulire il corpo o la lente. Per lo sporco ostinato portate la vostra fotocamera in service. Quindi in pratica che cosa vuol dire questo? Usiamo i soffietti quelli fatti apposta per rimuovere la polvere da dentro il sensore o un altro video in cui ne parlo quindi andatevelo a ripescare. Usiamo quelli non usiamo aria compressa non soffiamo sul sensore non facciamo niente che non sia il soffietto fatto apposta perché qualunque altra cosa andiamo a peggiorare la situazione. Non utilizziamo solventi strani sul corpo macchina sulle lenti o su altre parti perché se usiamo l'acqua raggia sul corpo macchina stiamo andando comunque a peggiorare la situazione non lo stiamo pulendo ma lo stiamo sciogliendo certe parti insomma è meglio non farlo. L'acqua secondo me è sempre la cosa migliore io non userei neanche il sapone su certe parti mentre per le ottiche e per i circuiti esistono degli spray fatti apposta quindi è meglio andare su quelle cose lì piuttosto che usare il sapone dei piatti ecco un'altra cosa importante e attenzione anche questa io la scopro adesso in parte non dobbiamo toccare le parti magnetiche i contatti della nostra fotocamera con le dita perché le nostre impronte digitali il sudore l'umidità va a corrodere queste componenti quindi tutto quello che è di metallo l'attacco dell'obiettivo la baionetta non andiamo a toccarlo con le dita perché questo può provocare delle ossidazioni e quindi impedisce poi il corretto funzionamento andiamo a vedere le raccomandazioni per quanto riguarda la condensa di questo avevamo già parlato e questo è particolarmente interessante se la fotocamera viene introdotta da un posto freddo a un posto caldo della condensa potrebbe formarsi sulla macchina e sulle parti interne per evitare la condensa bisogna mettere la fotocamera in una busta di plastica sigillata e lasciare che la temperatura si stabilizzi prima di tirarla fuori questo è molto interessante suggerimenti del produttore quindi diamo per buono secondo step se si forma della condensa sulla nostra fotocamera per evitare ogni danno non usiamo la fotocamera non rimuoviamo la lente la memory card o la batteria spegniamo la fotocamera e aspettiamo che l'umidità sia completamente evaporata prima di riprendere a utilizzare la nostra fotocamera anche quando si è completamente asciugata se è sempre fredda all'interno ancora non rimuoviamo la lente non rimuoviamo la batteria non rimuoviamo la memory card per impedire un danno maggiore alle parti interne ovviamente ora questo è molto importante perché riguarda il mancato utilizzo se la fotocamera non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo rimuovere la batteria e riporre batteria e fotocamera in un posto asciutto fresco e ventilato una raccomandazione che trovo abbastanza inquietante è anche se la fotocamera non è in uso è consigliato premere lo shutter ogni tot tempo per verificare che la fotocamera sia ancora in buono stato questo mi ricorda molto gli orologi perché quando noi andiamo ad acquistare un orologio automatico una raccomandazione che ci fanno è usalo l'orologio non lasciarlo lì in vetrina perché se tu l'orologio non lo usi in qualche maniera si danneggia di più che non se lo utilizzassi il fatto di farlo funzionare l'orologio te lo tiene in uno stato migliore piuttosto che lasciarlo fermo un po' come il motore di un'automobile l'automobile che rimane ferma ha tutta una serie di guarnizioni che si consumano prima con l'inutilizzo ha tutta una serie di componenti che formano delle morchie per mancato utilizzo quindi ci sono cose che è meglio usarle piuttosto che lasciarle lì ferme e questo secondo me ricade perfettamente nella stessa categoria evitiamo di riporre la nostra fotocamera in un ambiente come può essere un laboratorio dove ci sono componenti corrosivi questo ce lo potevamo immaginare un'altra cosa che leggo che secondo me è interessante perché io non ci avevo pensato però è interessante e ve la riporto se avete una fotocamera che non avete usato per un lungo periodo di tempo e la dovete utilizzare per uno shooting importante portatela a fare un check presso il service del vostro produttore di riferimento in maniera tale che vi confermino che tutto funziona correttamente una fotocamera che non è stata usata per un lungo periodo di tempo potrebbe presentare un malfunzionamento al momento dell'accensione imprevisto e non è bello arrivare a un lavoro pensare alla strumentazione funzioni perché è perfetta e scoprire invece che c'è qualcosa che non va è meglio portarla in assistenza e fare un check fanno una diagnostica e ti dicono se è tutto funzionante se è tutto a posto trovo anche riportato la fotocamera potrebbe surriscaldarsi per un utilizzo estensivo quindi se la usiamo per tanto tempo il body potrebbe surriscaldarsi e potremmo sentirlo caldo questo non è un problema non è una malfunzione un malfunzionamento riporta così perché nel momento in cui la fotocamera si scalda troppo viene fuori l'alert che ci dice la fotocamera è troppo calda a cessare l'utilizzo quindi se si sta scaldando ma non esce l'avviso non è un malfunzionamento possiamo continuare a usarla finché non esce l'avviso qui poi trovo una raccomandazione per quanto riguarda le luci molto forti in particolare c'è una raccomandazione a non tenere il sole in campo non tenere luci molto forti in campo io francamente lo faccio lo facciamo tutti anche perché spesso non c'è scelta certo è che un timelapse di tre ore con il sole in campo potrebbe anche provocare dei problemi non dico di no quindi stiamo attenti quando inquadriamo delle fonti di luce molto forti perché comunque il sensore si sta beccando tutta questa luce e non è immune da tutti i fotoni che sta ricevendo ecco ma c'è addirittura una raccomandazione di usare il paraluce pensa un po' c'è la raccomandazione di usare il paraluce per evitare che fasci di luce indesiderata entrino all'interno della nostra immagine interessante questo c'è anche sul libretto passiamo a screen e viewfinder questo è interessante questo ve lo leggo perché è intricato nonostante lo screen e il viewfinder siano costruiti come strumenti di grandissima precisione e tecnologia con una percentuale di 99.99 pixel effettivi ciò nonostante lo 0,01 dei pixel potrebbero essere morti il che significa che potrebbero esserci delle macchie nere rosse o di altri colori questo non è un malfunzionamento l'immagine viene comunque registrata correttamente quindi il produttore ha un po' messo le mani avanti dicendo guardate che i display sono di alta precisione però se ci sono problemi nel display l'immagine viene registrata correttamente quindi non è un problema ok prendiamo per buono io non ho mai avuto questo problema qui ci sono tutte cose un po' terroristiche vado a leggervi anche quest'altro se lo schermo viene lasciato acceso per un periodo di tempo prolungato è possibile che rimangano delle sfocature che continuano a essere visibili sullo schermo comunque questa è una cosa temporanea e viene annullata lasciando la fotocamera a riposo per un certo periodo di tempo cioè in pratica se io lascio la macchina accesa la lascio accesa così è possibile che poi per un certo periodo di tempo mi rimanga sul display l'alone di un punto luce o di qualcos'altro che è rimasto sempre fisso a monitor per un lungo periodo di tempo per fortuna a me non è mai successo però è un rischio su cui il produttore ci mette in guardia e sempre sul filone fototerroristico lo schermo potrebbe sembrare più lento quando stiamo lavorando a temperature basse mentre potrebbe addirittura diventare tutto nero quando stiamo lavorando in temperature molto alte lo schermo tornerà perfettamente normale quando riportiamo la strumentazione a temperatura ambiente normale quindi tra i 19 e i 20 gradi penso una roba del genere veniamo alle raccomandazioni per quanto riguarda le nostre memory card ovviamente non far cadere non piegare non bagnare la memory card la memory card non deve essere sottoposta a degli shock quindi non deve essere né pestata dentro troppo forte insomma bisogna metterla dentro con delicatezza perché è fatta apposta per entrare non dobbiamo forzarla non dobbiamo piegarla non dobbiamo provocarle danni questo è abbastanza normale ormai lo sappiamo tutti non toccare i contatti della memory card né con le dita né con niente di metallico questo è importante lo so che capita di prendere la memory card e dire a cavolo l'ho presa per i contatti io personalmente vado a pulirla con un panno subito dopo perché anche lì lasciare impronta digitale sudore o qualsiasi altra cosa sui contatti dopo può provocare un malfunzionamento inoltre le parti metalliche questa è un'altra cosa che io si sapevo che non gli faceva bene ma non sapevo che era proprio scoraggiato come comportamento questo significa ragazzi che noi non possiamo prendere la memory card e buttarla nella tasca dei pantaloni con le chiavi di casa perché stiamo andando a comportare un contatto tra le parti i contatti della nostra memory card e le chiavi di casa e questo non va bene quindi la memory card va riposta dentro nelle sue scatoline quelle case piccole di plastica trasparente che ci danno quando compriamo una memory card vanno riposte lì e così possono essere buttate anche nella tasca con le chiavi di casa perché così sono protette un'altra cosa interessante che io non sapevo non mettere sticker o adesivi sulle memory card questo non è scontato perché c'è già uno sticker sulla memory card quando la compriamo però quello è messo dal produttore quello è tollerato quello che ci stanno dicendo è non mettetene degli altri perché uno spessore ulteriore può far sì che la memory card non entri più correttamente nel dispositivo e un adesivo infilato dentro quando non ci sta poi si alza rimane appiccicato dentro insomma è un disastro quindi non mettiamo altri adesivi rispetto a quelli che ci sono già e poi tutte le solite raccomandazioni del caso ovvero le memory card non vanno lasciate al sole non vanno lasciate al caldo non vanno lasciate all'umidità insomma questa strumentazione è un po' come un vino deve stare in un ambiente ben preciso con una temperatura controllata niente umido niente campi magnetici perché altrimenti potremo andare incontro a delle conseguenze spiacevoli come la smagnetizzazione la perdita delle fotografie che abbiamo già scattato così come è anche semplicemente un danno alla memory card che poi va sostituita ed è un peccato bene queste sono le raccomandazioni del produttore che ho trovato su questo libretto di istruzioni molto complicato e solo in inglese fatemi sapere in un commento se argomenti di questo tipo vi possono interessare perché è vero che è un argomento scontato e banale però è anche vero che siccome non te lo danno più questo libretto molte di queste cose alcune non le sapevo nemmeno io secondo me molte di queste cose alcuni di voi che stanno guardando non le sapevano proprio quindi secondo me è un contenuto interessante ma non importa quello che penso io è più importante quello che pensate voi per cui fatemelo sapere in un commento ricordatevi anche di iscrivervi così non vi perdete i miei video verticali in risposta ai vostri commenti signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti